e allora ragazzi 1 luglio 2023 sono le 10 un quarto del mattino e siamo stati letteralmente circondati dalle balene ce ne sono siamo a catania e ce ne sono una decina qui ce n'è una molto grossa intanto ci avviciniamo vi faccio vedere questo poi vi faccio vedere le altre letteralmente circondati dalle balene questa è enorme mamma mia che spettacolo questa è gigantesca un salto fuori dall'acqua queste sono due ma guarda quante sono qua ce n'è due la sotto ce n'è un'altra mamma mia che spettacolo questa è piccola con calma mai vista una cosa di questa a catania ma che cosa pazzesca già ne abbiamo contate 10 ma poi sono enormi camminano veloci veloci quattro noti Questa è qualche dieci metri. E' un mezzo che importa, si apre. Carusi, quando ci ricapita più una storia del genere? Anche di navigare con la terra. Una ogni tanto si vede, ma non decine come ora. Sommergibile. Ci abbiamo le altre davanti? Ah, vero? In fondo ce ne sono altre, si. E' una traversata. Ci sono più di venti balè. E' un'altra. E' un'altra. Qua c'è lei. Qua c'è l'altra. Qui c'è un gruppo di uno, due, tre, quattro, cinque e sei là davanti. Questa è un gruppo di sei tutti assieme. Questa è un gruppo di sei tutti assieme. Questa è un gruppo di sei tutti assieme. di sei tutti assieme di parte. E' un gruppo di sei tutti assieme. Questa è un gruppo di sei tutti assieme, ma iniziare un gruppo di sei monti. guarda guantes sotto ce n'è altre lo porti uno di questo a casa mamma di me guarda guantesca no qua sono due qua e due là e altre due la quinta è la dietro la c'è un'altra la terza è uscita la no sono balene sono circondato dalle balene peccato che sono circa una trentina quello è il boss appena è arrivata quella se ne sono scelta questo è gigante ci sta guardando curiosi sapere che siamo la mia boss wow c'hanno gli angiletti di sotto c'hanno i pesciolini di sotto una due tre quattro cinque sei sette sette sono sono sette balene guardate là sotto ci sono le altre più lontane giornata documentare queste sono sette pinne due quattro sei una sette poi la davanti ce ne sono un altro gruppo sono almeno animali 10 metri lungo quello è gigantesco quella è gigantesca è gigantesca è gigantesca si è gigantesca qui è gigantesca qui è gigantesca è gigantesca in un'altra va bene ragazzi a 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